Chiri e lei son, Christe e lei son, Chiri e lei son, Christe e lei son. Gloria, gloria, a Dio nell'alto dei cieli, gloria e pace, e pace, e pace, e terra i nuovi di buona volontà. Noi ti lodiamo, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo, grazie, per la tua gloria immensa. Sua eccellenza Bregantini, anche durante l'omelia ha spiegato l'importanza delle mani velate della Santa. Quale messaggio vuol mandarci? Sono mani che sono velate ma aperte, sono segnate dalla croce, cioè dalla sofferenza, ma si aprono alla benedizione, alla protezione, soprattutto e ancora di più all'obbedienza, come dice il Vangelo, eccomi, sono la serva del Signore. Noi vogliamo chiedere a Dio, tramite Maria, che le nostre mani siano accoglienti, siano aperte, che i nostri cuori siano pronti, che le nostre città siano aperte, che i nostri porti siano aperti, che non succedano più cose così tristi come questi giorni abbiamo visto a Lampedusa. Non si può arrestare chi salva, non si può ammettere alla vergogna chi ha fatto del bene. Ecco perché sono mani di solidarietà, mani che rialzano, mani che difendono contro il male, male che ci fanno sentire che Dio è più grande delle nostre paure. La Madonna della Libera non è solamente venerata e onorata da tutti quanti i cercesi, ma da tutta la diocesi Campobasso Boiano. Sì, ci sono tanti luoghi in cui è amata e venerata. Il più famoso accanto a questo è Indiprete, ma c'è Castellone. C'è poi nel cuore della città di Campobasso la chiesetta deliziosa, centrale, amatissima, che si chiama appunto Madonna della Libera. E quindi questi tre luoghi che ho nominato, e altri che sono ovviamente noti, ma non occorre chiamarli, sono segno che questa Madonna, venendo da lontano, dal mondo bizantino, attraversato il periodo di Benevento, è stata immagine ritrovata qui in un momento, diremmo, providenziale, questi 600 anni hanno reso questo luogo celebre. La presenza dei Domenicani prima, per oltre 500 anni, e oggi la comunità Maria Stelle dell'Evangelizzazione, ci dicono che questa fede è ancora viva, è promettente, è carica di speranza e soprattutto è carica di tanto coraggio per il futuro, perché ci libera dalla paura del male e ci fa rendere fiduciosi nella forza del bene. Quindi lottare il mare con il bene. Sì, questo il segreto è questo, vincere il male con il bene. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci troviamo in compagnia del sindaco di Cerce Maggiore, Gino Mascia. Oggi a Cerce Maggiore si festeggia la Madonna della Libera. Fra l'altro lei è stato da poco eletto sindaco di Cerce Maggiore. Sono sempre vissuta anche da paesano, dal libero cittadino cercese, insomma, quindi questa è una bellissima festa, è una festa religiosa, anche civile, quindi non si pensi soltanto a baccalà e peperoni, come si viene ricordato di solito, ma anche perché ci sono molti devoti alla nostra Madonna della Libera. se considerate che circa il 60% delle persone che erano in processione stasera erano di fuori comune, quindi figuratevi quanta gente c'è che adora la nostra Madonna, insomma. Quindi appunto c'è molta affluenza non solo da parte dei cercesi, ma proprio all'interno della Valle del Tamaro. Sì, 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 i comuni di Mitrofi sono tutti presenti, ma vengono anche da fuori, da altri comuni che non sono nelle nostre vicinanze. Poi è chiaro che i comuni della Valle del Tamaro lo sentono di più perché è la loro protettrice in realtà, e i colleghi sindaci ne sono la prova perché sono presentissimi con i compaloni, con i costumi particolari e antichi della loro comunità. Diamo che è ben sentita anche da fuori, dai comuni della Valle del Tamaro. La Valle del Tamaro Cuore della Vallata e onore di Cerce Maggiore Preghiamo Madonna della Libera, tra querce di bellezza, ci hai generata ed amata un cuore riconoscente per la forza nella liberazione del male. I tuoi grandi occhi di luce e le tue mani di accoglienza e le piccole croci sulle palme aperte ci inducono a chiederti le tre cose che la storia ci ha consegnato. Termina qui la puntata dedicata alla Madonna della Libera di Cerce Maggiore. Ricordiamo ai nostri telespettatori di seguirci all'interno dei nostri canali 11 per Telemulise, 12 per Telemulise 2, per gli amici abruzzesi il canale 96, mentre per gli amici del Lazio e di Roma il canale 880. Inoltre se volete rivedere le nostre puntate e vi siete persi qualche curiosità o qualche particolare potete rivedere le puntate nel nostro sito internet www.telemulise.com e nel nostro canale YouTube Telemulise.